del Comando Artiglieria Controaerei di Sababia. La Marina Militare, rappresentata dai marinai del compartimento marittimo di Gaeta. L'Aeronautica Militare, rappresentata dagli avieri della Quarta Sbicata, delle Comunicazioni e Sistemi per la Difesa Aerea e l'Assistenza al Volo di Corvo Gare e del Settantesimo Stormo di Latina. L'Arma dei Carabinieri, rappresentata dai Carabinieri del Comando Provinciale di Latina. Il Corpo della Guardia di Finanza, rappresentato dai finanzieri del Comando Provinciale di Latina.